Che vittoria è per i cittadini quella ottenuta la Camera? Una vittoria importante, una vittoria di civiltà, qualcosa che i cittadini si aspettano dal 1987, da quando fu svolto e vinto un referendum sulla responsabilità civile dei magistrati e dei giudici, non solo della parte inquirente ma anche di quella giudicante, che in qualche modo le corporazioni che strellando contro il rischio di mancate dipendenze della magistratura hanno sempre bloccato. Ci abbiamo provato due anni e mezzo fa, ci eravamo riusciti, poi si è arenato al Senato. A me personalmente è costato molto in termini anche personali, però è una battaglia nella quale coerentemente io credo e porto avanti fino in fondo. E di questo ringrazio la Lega per avermi dato la possibilità di dimostrare che anche all'interno del Parlamento, nonostante quelle che sono le posizioni politiche che si vedono in superficie, nel momento in cui i parlamentari possono esprimere il vuoto senza il vincolo del gruppo parlamentare, prevale, al di là delle stupidaggini dette dal Movimento 5 Stelle, prevale il buonsenso e prevale quello che è l'orientamento principale di tutti i cittadini. L'Associazione Nazionale Magistrati grida lo scandalo per questa vittoria ottenuta. Lei come risponde? Beh, già che è strano che esista un sindacato dei magistrati in un paese civile, anche perché sono adeguatamente e ampiamente tutelati. Come al solito vedo che le prime reazioni che arrivano a tempo di record sono reazioni di chi evidentemente non ha letto il testo, perché non intacca minimamente l'autonomia della magistratura, non intacca minimamente, anzi salvaguarda in maniera più forte rispetto a quello che c'è adesso, il lavoro dei magistrati e dei giudici che lo svolgono in maniera seria e in maniera veramente equidistante applicando quelle che sono le norme, punisce invece chi fa il suo lavoro in maniera erronea, più o meno volutamente, e che rovina magari la vita alla gente senza poi mai venirne chiamato a rispondere. Non è un paese civile quello che non chiama a rispondere un dipendente dello Stato che sbaglia.